Ciao ragazzi, io sono Nikodin e sono ritornato con un nuovo video, nuova sfida Spurs vs Manchester United Mi raccomando, lasciate un mi piace, attivate la campanella e iscrivetevi al canale E niente, andiamo a farvi vedere la mia proposta per la sfida di oggi Questa la potete fare pure voi ragazzi tranquillamente Perché stiamo al 100% di intesa Ultimamente sto cercando di fare tutte le sfide a quanto più alta posso Per poter farla anche voi giustamente che mi guardate i video Vabbè, iniziamo da qui Poi dopo andiamo ad aprire anche il pacchetto Mamma mia, questo penso che sia il più scarso difensore del gioco Grazie a tutti E questo è l'ultimo E vai Vai con oro Piccolo orari No oro orari piccolo Ok vabbè sempre la stessa cosa Vai 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 Bandierina attenzione Brasil Cici Tolisso Ah Paolino Ok Io pure Tolisso Talisca Allora Tre dalla Germania Ok Ci sta Va bene ragazzi Questo è stato il video Io vi ringrazio E ci vediamo con un prossimo E ci vediamo con un prossimo